Grazie 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 Fuori dai coglioni Fuori uno Terzino One 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 football Primo link in descrizione Applicazione completamente gratuita In grado di cambiarti l'umore della giornata Scaricabile gratuitamente nel primo link in descrizione Per iOS andate che tieno aggiornati a 360 casi Tutti i risultati delle competizioni che ci saranno quest'estate Ossia l'europeo, la finale di Champions League sabato sera E tutte le notizie di calcio mercato Lasciamo un mi piace per Max Scusate ma ho bisogno di uno psicologo In questi quattro giorni ho avuto l'assaggio di quello che sarà quest'estate Domani la reazione dei tifosi a Max Allegri Fate voi il numero dei mi piace Adesso parliamo Chi c'aveva paura Cristiano? Io non me li menti con queste cose Mi sa che innanzitutto Sarai tu a temere me O le coglioni Ora parlo io e stai zitto 9 milioni di euro per 4 anni Mentre Pirlo ne prendeva 1,8 L'Inter secondo Gianluigi Di Marzio avrebbe fatto di tutto per prenderlo in nottata Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è rimasto? Chi c'è? Chi c'è? Il conte lascia l'Inter Non prendono Allegri Pocettino la sparo lì Ma pensiamo al nostro Perché guarda non c'è manco modo di pensare agli altri Che c'è tanto da ripensare Allegri torna a Juve Che squadra si ritrova? La stessa dell'altra volta un cazzo Si ritrova un Chiellini che sta per lasciare Un Buffon che non c'è più Quindi la porta Chesney non si sa se sarà il portiere Cambiata tutta La difesa Chi è De Ligtat? Chi è Danilo? Centrocappisti Chi è Rabiot? Non l'ha mai allenato Questo potrebbe fare alla chedira 20 gol stagionali Potrebbe esplode Invece magari esplode perché lo manda via Ronaldo Il processo di crescita della squadra è fermato da Cristiano Ronaldo Ciao 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 Cri Allegri non ti ha mai voluto Adesso mi sa che è proprio finita Ma proprio finita Perché se no non avrebbe senso Non avrebbe senso Allora La Juve diceva a lei Diceva la sudella in testa Lo diceva da mesi Qual è la tua idea? Esponci Esponila Di bala Pronto a famigliano? Eh non lo so Non mi risponde Se è già piccato È rimasto solo fede Ma sapete qual è la reazione a caldo? Io Che apro il telefono Mi riapro il gruppo di Whatsapp Vai Io ve lo dico Buttate 5 euro sulla vittoria della Champions Hanno paura di Max Allegri E ce lo siamo preso Incredibile L'ultima partita di Max Allegri Era una banalissima di campionato L'ultima partita di Champions League di Max Allegri Juventus Ajax 1-2 E si riparte da lì Con lui almeno la parola quarto di finale Si raggiungeva 4 volte su 5 4 volte su 5 Ripeto 4 volte su 5 Chissà Chissà Se adesso Con il suo ritorno Riusciremo già a ritornarci Dal prossimo anno Perché sicuramente Nella Juve ormai una cosa è certa Non ci possono essere allenatori che creano un qualcosa e gli dai tempo 50 passi indietro Prendere Allegri vuol dire fare 50 passi indietro Riconoscere di aver sbagliato Io non lo voglio negare Nel dubbio Nella notte Di tanti nomi che circolavano Prendeva idea nella mia mente Zidane Zidane Juve E All'Inter Allegri E invece non è stato così Infatti ho aperto la notifica del Chevrolet Le che Fanta Cazzetta Mi ha dato la notifica A proposito Il video del Fanta Calcio Lo volete avere in serata Lo avrete Beh adesso vedete un video così Molto a caldo Senza ragionarci neanche troppo sopra Così Con tutte le idee che ti frullano nella mente Le interviste che torneranno Si tornerà a vedere un'intervista Incredibile Tutto sia una coppetta ragazzi Ah 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 Eh si impazzisce Si impazzisce Quando si pensa Allegri Ha fatto 5 anni di ricordi Va a firmare per un quadriennale Cioè se firmi per un quadriennale Vuol dire che sei già consapevole Che tu con Allegri Vuoi fare qualcosa di grande Non è un triennale Un biennale Una roba così Un quadriennale a 9 milioni Allegri che riaccetta Di tornare dove è stato Cioè rischia solo Di quasi di fare peggio Perché meglio di come ha fatto Difficilmente potrà fare E questo va detto Noi si esulta È normale Perché di certo Nelle ultime ore Pervi un attimino Soldato delle alternative Li vedevi I video degli interisti Che ti volevano prendere Allegri Li volevi Gliel'hai tolto Gliel'hai tolto Anzi Ma che gliel'hai tolto Cioè stavano a rubare pure lui Ora stanno a piazzarri Stanno cercando di copiare tutto Ci sta chiamato un po' L'Inter va a giocare All'Olimpico di Torino E non va più a giocare a San Silo Ci hanno copiato logo L'hanno cambiato il logo Hanno cambiato il dirigente Hanno preso gli allenatori Che allenavamo Che ci avevamo noi Ma notte era lì Era lì Puttana Porcazzo Vi saluto Peppe Ciao Voglio vi dirci chiaro Con una differenza tua E li ha messo giù Allora Di schemi moduli A me Ci sono video Ci sono video Juve schemi Allegri Allegri è una schemi Quindi tutti i video che usciranno I schemi della Juve di Allegri Non esistono Perché sono nella tua testa Quindi non lo puoi leggere Non lo puoi prevedere Per fortuna Via parattici dentro Allegri La Juve che si piega a 90 Alle decisioni di Mazza Alle volontà di Mazza Per soddisfarlo Come se fosse Il nostro emiro La nostra fonte di luce Che deve decidere Come fare E gli dicono Ma si potrebbe Rifare il tuo campo Ora parlo io E stai zitto Innanzitutto del ciglio A presito si richiama Rugani Al coppia con De Litt E mi ravià Questo è pazzo Vabbè Chissà se saprebbe Rivalorizzare giocatori Come Ramsey Che manco è stato usato No Tutto è possibile con Mazza Cioè Ci sono delle paure Su certi giocatori Che possono diventare Fuori ruolo Secondo me Fede Stai zitto E' Allegri No Culeseschi Pidem Tanti giocatori Che vedremo Come saranno schierati Potrebbe essere Un plus Per dire Morata Ti rinnovo Volendo Perché ti ho allenato Quindi Quanto c'è da riscattare Sto l'anno qua 10 milioni Vai Morata Morata Putta Lo tengo Morata Morata Quando sono arrivato L'ho voluto io E' stato preso Il primo anno Fatto tutti gli anni con lui E allora basta Vabbè basta A parte gli scherzi Mi ricordo solo la frase Allegri Io ho in mente Una Juve Però è da mesi che ce l'ho Che Juve c'avevi in mente Tu che dissi Che Ronaldo bloccava il processo Di crescita della Juve Adesso mi aspetto Altre risposte Max Prometto Di non arrabbiarmi Con te Dovessero arrivare Vittorie Sofferte 1-0 Con la salernitana Con catenaccio Fino al 94esimo